In questo meraviglioso lunedì, in città, ho solo un dubbio. Esco in bici o monopattino? Con Vivident Blast a gusto Ice Mint, libero il mio lato fresh e vado a piedi. Ma per fortuna c'è una cosa su cui non ho dubbi. Partecipare al concorso di Vivident Blast, per vincere una delle centinaia di fantastiche sneaker da personalizzare con il mio stile. Vivident, vivi fresh al 100%. Concorso valido fino al 31 gennaio 2023. Regolamento su Vivident.it Esso Synergy Supreme Plus Diesel è il nostro diesel migliore di sempre. Se stai cercando un carburante che si dà da fare per te, esso c'è. Scopri di più su esso.com Buona segata amici Border Knights. Siamo qui questa sera per presentare un nuovo progetto, un nuovo cammino. Sapete che ci piace addentrarci anche in novità. ogni volta che cambia la stagione e spesso il tutto deriva da una chiacchierata, da una conoscenza, da un approccio che magari non era previsto. Di questo progetto ne parlavamo un po' da tempo e adesso ci siamo. Saluto Leonardo Paolo Lovari, editore, scrittore e tanto altro. Benvenuto Leonardo. Buonasera Fabio, buonasera a tutti gli spettatori di Border Knights. Allora, Carlo Leonardo, raccontaci intanto un po' per chi non ti conosce, anche se comunque le tue iniziative editoriali hanno fatto parlare, sia le cose che ti riguardano da vicino, ma anche gli autori molto interessanti che hai pubblicato e che pubblichi, quindi di che cosa ti occupi e poi andremo a raccontarci che cosa ci porterai ogni settimana. Abbiamo detto la serata del giovedì che sarà dedicata a questo nuovo progetto. A te. Ti ringrazio Fabio. Quello che posso dire è che nel 2013 abbiamo deciso di aprire questa casa editrice che si chiama Armachis, Armachis Edizioni. Si occupa di crescita personale, di storia antica, filosofia, esoterismo, è tutto quello che riguarda la crescita personale e il risveglio della coscienza tramite l'arte. e la cultura. Per quanto mi riguarda, anche io mi sono sempre occupato di queste tematiche, in parte anche perché sono operatore prano pratico, quindi appartenco al mondo dell'olistica. Per quanto mi riguarda, io ho sempre amato per una grande attrazione quello che è l'antico Egitto. L'antico Egitto che andando avanti poi con le mie ricerche soprattutto seguendo quello che l'istinto, le energie mi facevano arrivare, è arrivato poi alla decisione e alla consapevolezza di portare avanti un progetto che Armachis siamo io e la mia compagna, abbiamo deciso praticamente di portare avanti un progetto molto interessante che è quello di riscoprire la cultura e le radici della tradizione occidentale. Partendo dall'origine, per quanto mi riguarda, della nostra cultura, che è l'antico Egitto, per passare poi al mondo alessandrino, greco-romano, arrivando poi tramite il Medioevo a Firenze, a Firenze Accademia Neoplatonica, e Umanismo e Rinascimento. Questo è un percorso molto ambizioso, però al momento abbiamo oltre 100 titoli a catalogo, stiamo continuamente pubblicando due o tre novità al mese e nonostante questi periodi abbastanza bui, riusciamo ancora a sopravvivere e soprattutto a riuscire a pubblicare. Siamo specializzati su... Ah, dimmi. No, no, ma finisci poco e poi ti chiedi. No, volevo finire praticamente che il concetto è quello che anche noi cerchiamo dal nostro punto di vista, ecco le collaborazioni con Border Knight e altri operatori, che è quella veramente del risveglio delle coscienze, e soprattutto di poter arrivare a comprendere e capire che di non fermarsi mai a prima immagine, ma andare a fondo e pensare con la propria testa. Noi facendolo, risvegliando le coscienze, altri facendo controinformazione, oppure anche informazione su argomenti, su cose che non vengono dette sul maestrino. Ecco, perché proprio infatti è una da sempre, fin da quando siamo nati, diciamo la nostra particolarità è sempre stata quella di mescolare la realtà contingente e poi ecco a un risveglio di altro tipo, e questo grazie chiaramente agli autori che in questi anni si sono alternati. Una volta, caro Leonardo, era tra virgolette anche molto più facile, nel senso che oggi credo che sia anche questo un po' fatto apposta, hanno costretto un po' tutti noi quasi a comprimere molto lo spazio del passato, ad esempio, quindi conoscere il passato in una certa maniera per essere risvegliati nel presente, e invece credo che dobbiamo impegnarci a non permettere che occupandoti sempre col presente, perché te ne fanno una dietro l'altra, e quindi per forza ti obbligano, però invece credo che sia importantissimo lasciare aperta questa dimensione con la storia, con la coscienza, con la realtà. Come immagini questa nuova trasmissione in cui credo si alterneranno con te anche degli autori? Allora, ritornando al discorso che hai detto per il discorso delle risveglie della coscienza, il lavoro su se stessi, il lavoro sulla propria anima, è l'unica cosa che non può essere rubata, possono rubarti i soldi, possono rubarti la casa, possono rubarti l'idea, ma la propria formazione, la propria crescita personale è una cosa che è individuale. Questa trasmissione è proprio per questo, andrà a toccare tutti i vari aspetti che riguardano l'anima, il pensiero, ma non solo il pensiero razionale, ma il pensiero antico, il pensiero che portava praticamente gente intorno al periodo alessandrino a generare scritture, specialmente scritture ermetiche su Ermete Trismegisto, cose che sono talmente attuali che addirittura si parla che l'ognosticismo potrebbe essere la religione del futuro. Gnosticismo inteso quello che è il lavoro su se stessi, era praticamente una, nemmeno una setta, era una federazione spirituale, teologica, religiosa che si occupava in forma individuale dell'ascesa a livello della propria anima verso il pre-Roma, un discorso molto lungo che affronteremo nelle trasmissioni, però è molto attuale in un concetto gnostico di un mondo, un mondo materiale generato da un demiurgo in cui veniva controllato tramite dei giudici chiamati arconti, proprio e perfettamente sovrapponibili con gli arconti che ci sono in questo momento che stanno in qualche modo controllando e gestendo il nostro mondo. Citavi prima anche l'antico Egitto che è sempre affascinante, è un tema molto vasto su cui molto si è detto e scritto, che cosa invece c'è ancora secondo te da sapere, da conoscere, da valorizzare? Il grande archeologo discusso, discutibile, noi abbiamo pubblicato due libri, Zaki Awas afferma che previamente è stato scoperto solo il 30% del patrimonio archeologico dell'antico Egitto, il concordo. A livello di mummie, a livello di faraoni, mancano all'appello alcuni faraoni tra cui praticamente Nefertiti, che è considerata anche un faraone perché durante la XVIIIesima dinastia c'è stato un periodo turbolento che è coinciso con Achenaton, il faraone eretico, Tutankhamon, Horembeb, Heai, e tra questi anche si parla tra le varie teorie delle successioni anche perché questo faraone è stato obliterato dalla storia perché sono stati cancellati tutti i cartigli e solo con la scoperta della tomba di Tutankhamon siamo riusciti a scoprire praticamente che esisteva questo faraone che era non considerato nemmeno inserito nella cronologia dei faraoni. Quindi Nefertiti come altri, addirittura come il grande Himotep, il grande Himotep il primo costruttore della piramide, il costruttore delle piramidi come la piramide di Joseph e tante altre. Però ritengo per quanto riguarda gli argomenti siccome Armachis si occupa dell'antico Egitto di egittologia ma però egittologia sempre in funzione di una ricerca e una chiave per quanto concerne il risveglio della coscienza quindi la parte esoterica dell'Egitto quindi non la parte come posso dire archeologica viva sì ci interessa a noi interessa molto il significato delle mummie e quelle persone che erano come pensavano e cosa ci hanno lasciato a noi. La cosa molto importante a noi interessa quello che è il mondo magico dell'antico Egitto connesso poi a quello che riguarda il sistema delle iniziazioni. Il sistema di iniziazioni che praticamente sono poi state utilizzate per qualsiasi confessione religiosa addirittura anche il cattolicesimo utilizza l'iniziazione del battesimo per inserire e iniziare l'individuo alla confessione cattolica. Il lavoro è questo sul rapporto della magia che nell'antico Egitto era tutt'uno con la religione addirittura anche con la società perché l'Egitto era una società teocratica quindi si basava sulla religione a capo di tutti un po' come l'Iran in questo momento. Ecco quello che voglio dire è proprio questo lavoro questa portare alla luce i significati delle varie iniziazioni che per giuramento erano segrete quindi conosciamo non molto c'è una iniziazione molto importante che parleremo verrà pubblicata insieme a Pietro Testa che è uno dei più grandi conoscitori dell'antico Egitto sull'iniziazione di Orsiesis praticamente nel libro delle respirazioni c'è una parte in cui ci fa capire praticamente che l'iniziazione che lui ha avuto ad Avidos noi abbiamo delle documenti abbiamo delle manifestazioni tutti in periodo tardi in particolare Apuleio e nelle metamorfosi parla di questa di un'iniziazione quindi tutti in periodo tardi però ecco diciamo che piano piano qualcosa riesce a filtrare hai citato il concetto di magia sul quale ci siamo spesso interrogati tu come definisci questa dimensione chiaramente in chiave legata appunto all'Egitto che è un po' diversa da come poi è arrivata ai tempi nostri il concetto come ho detto prima è legato alla concezione della società egiziana che era una società teocatica in cui praticamente magia e religione andavano a braccetto se noi abbiamo scoperto che praticamente esisteva un'università importantissima di formazione dei grandi sacerdoti dell'elite dei faraoni dell'antico Egitto che si chiamava la casa della vita nella casa della vita si imparava la vita quindi il nome era Perank anche la chiave della vita quindi praticamente dentro questa istituzione venivano apprese le formule magiche veniva appresa tutta la cultura delle iniziazioni gli iscrivano imparavano la lingua sacra che era quella geroglifica che veniva esclusivamente letta e conosciuta solo dall'elite il popolino non conosceva assolutamente non leggeva assolutamente i geroglifici perché i geroglifici è lingua sacra è lingua che veniva iscritta nelle nelle tombe nei templi e negli obelischi e in altri posti il popolino parlava il demotico la lingua del popolo mentre lo ieratico lo parlava nei sacerdoti e geroglifica veniva iscritto sulle cose quindi molto complessa la struttura della società egiziana ma la magia era magia anche popolare magia naturale che poi è stata ripresa anche più avanti in tempo nell'umanesimo con la magia naturalis di pico della mirandola e poi applicata sul concetto dell'accademia neoplatonica quindi la magia è sempre nata con l'uomo questa sensazione di poter dominare quelle che sono le forze che riguardano e l'energia è sempre stata insita nell'uomo che è importante non addrentarsi troppo e andare in campi che sono molto pericolosi appunto il fatto che quando si parla di Egitto c'è sempre quasi l'equazione con l'archeologia ecco invece questa parte qui che è destinata appunto alla crescita dell'uomo è stata un po' scansata possiamo dire così da quella che è anche un po' la ricerca storica cioè grazie appunto a voi ad altri che viene studiata riportata l'attenzione però effettivamente quando si parla di Egitto viene sempre in mente la tomba tutta la dimensione archeologica piuttosto che questo grande patrimonio del pensiero anche esoterico non solo pensiero esoterico ma anche pensiero per quanto riguarda anche le le scienze quindi la loro concezione di astronomia la loro concezione di medicina la loro concezione di uguaglianze anche la donna era molto considerata quindi abbiamo veramente una cultura e una civiltà avanzatissima perché niente a che vedere con l'egiziano di oggi è assolutamente una brutta copia nemmeno lontanissima della cultura egizia una cultura che si è combattuta e si è praticamente cristallizzata per oltre 3.000 anni quindi è rimasta stabile immobile immobile diciamo stabile nella sua concezione tramite il concezzo di giustizia e ordine universale stabilito dalla maat dal maat che è l'ordine costituito quindi l'egizio è stata sicuramente insieme ad altre culture che sono anche diciamo anche interconnesse come la cultura vedica come la cultura che comunque hanno dei contatti hanno avuto dei contatti con l'antico Egitto quindi possiamo dire che insomma tutto è connesso e niente viene per il caso insomma quindi è importante che noi portiamo avanti questo progetto perché gli egittologi in realtà finiscono le loro ricerche quando si arriva praticamente in epoca tarda in epoca tarda non viene assolutamente studiato studiato quello che è un periodo che è veramente importante per quanto concerne la nascita del pensiero occidentale quindi la nascita è il periodo che riguarda gli ultimi faraoni egiziani e l'inizio delle dominazioni straniere tra cui i libici i persiani i greci e poi gli ultimi sono stati romani con la fine diciamo della cultura faraonica ecco in quel periodo lì c'è stata una grande riscoperta della magia voi considerate che il faraone Nektanebo Nektanebo secondo l'ultimo faraone egiziano l'ultimo faraone di provenienza di origine egiziana era un grande cultore di magia grande cultore di magia che praticamente lasciò lasciò come predizione che lui fu sconfitto dai persiani lasciò la sua predizione che sarebbe arrivato un nuovo conquistatore giovane un giovane condottiero che avrebbe riportato l'Egitto ai fasti del passato questo signore era Alessandro il Grande questo viene spiegato in un grande libro che è il romanzo di Alessandro questo periodo io considero che è molto interessante e veramente da valutare anche per gli spettatori perché lì si è formata veramente tutta la cultura e la fusione del mondo greco romano con il mondo egiziano con la nascita anche di un dio sincretico che è stato strato quindi io invito e ne parleremo nella nostra rubrica sicuramente di un Egitto direi esoterico e un passaggio poi a un neoplatonismo e addirittura a un pensiero romano e di umanesimo ecco faremo questo viaggio invece un altro viaggio che è legato a uno dei libri che tu hai iscritto e pubblicato volevo interrompere ho visto passare una una questa parte Sara Cugnall questa qui non so io non ho niente a che vedere con Sara Cugnall che ho la sfortuna di non conoscere quindi non so nemmeno come come no no io purtroppo per sfortuna non ne ho nemmeno non so nemmeno come si chiama il partito anche se condivido le idee condivido tutte le idee di queste di queste formazioni purtroppo l'ego l'ego personale di tutti questi personaggi ha portato a diventare noi si dice ad Arezzo il trito nel trito e pregamente si è divisa in una pletora di partitini che prenderanno delle sonore legnate che purtroppo mi viene da dirlo perché qui doveva essere il momento ecco risveglio delle coscienze qui sarebbe stato veramente come il cacio nei maccheroni come si dice adesso e allora ecco perché non conoscono chiaramente la tradizione la storia quindi magari servirebbe magari più conoscenza e poi prima di avventurarsi non so poi con chi ti abbiano scambiato perché neanche un'assonanza di nome mi viene in mente posso dire una cosa ma io ho voluto precisare perché se no con tanto onore io ho fondato un partito ma no però devo dire che sicuramente è una formazione che ha sicuramente come altre come Toscano come altro e già sicuramente delle idee molto interessanti l'ho detto purtroppo c'è una malattia che non va molto d'accordo con la crescita personale che è quella chiamata ego ognuno di loro si è messo per sé e quindi non si sono riusciti a mettersi insieme per diventare massa critica non so se conosci il club di Budapest non si è sentito parlare del club di Budapest no? si è sentito parlare sì noi purtroppo diventiamo massa critica quando superiamo il 50 più 1 se no purtroppo stiamo sempre a rincorrere queste chiamate poi poi abbiamo come si dice va beh giusta divagazione e ti dicevo di questo libro che poi credo si legga anche molto facilmente il Vangelo di Giuda pubblicato due anni fa perché mi interessava entrare citavi anche lo gnosticismo questo è un Vangelo gnostico con alcune conversazioni tra Gesù e l'Apostolo Giuda Iscariota che cosa ci può raccontare un Vangelo gnostico interessante scusate allora il Vangelo di Giuda fa parte della biblioteca di Nag Hammadi facciamo un inciso questa biblioteca è stata purtroppo il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi in questo caso sono state ritrovate nel 1945 credo da un beduino dell'Alto Egitto cercava del fertilizzante in una grotta con una giara tirato su tutti i rotoli della biblioteca e di Nag Hammadi che erano stati lasciati per noi con la speranza che venissero raccolti nel periodo di Teodosia quando fu messo all'indice tutte le pubblicazioni che riguardavano che non erano diciamo ortodosse quindi erano state messe quindi sono stati messi da determinati monaci questi scritti questi papiri e tra questi ci sono tutta la biblioteca agnostica tutti i Vangeli apotifi e altri scritti tra cui la pistissofia e addirittura una parte del corpus ermetico all'interno i Vangeli in questo caso ci fanno vedere un Cristo un Gesù più umano un Gesù più adatto al concetto di uomo ci fanno vedere un persona un umano addirittura in cui ha un discepolo prediletto che era Maria Maddalena che addirittura in un altro tipo di scritto che è il Vangelo di Asenet addirittura aveva un figlio pare che avesse avuto un figlio e era sposata con la Maddalena questo non è nella biblioteca di Nag Hammadi ma è la storia di Giuseppe Asenet allora i Vangeli Gnostici si basano essenzialmente su detti sono tutti detti e racconti praticamente di Gesù che racconta ai vari interlocutori che sono praticamente a contatto con lui quindi fanno vedere particolarmente la figura umana molto importante il Vangelo di Giuda qui praticamente Giuda in questo Vangelo viene riscoperto come la persona prescelta la persona prescelta perché secondo Gesù solo una persona che avrebbe anche lui dato la propria vita per mettere a compimento quello che era lo scritto quello che sarebbe stato il destino di Gesù sarebbe una persona che era altamente che si è sacrificata per lui quindi secondo il Vangelo di Giuda Giuda era il prediletto come altri Vangeli come il Vangelo di Tommaso che è chiamato anche il Quinto Vangelo però non è riconosciuto dalla Chiesa Cristiana Cattolica però è molto importante perché ci fa vedere e ci fa scoprire praticamente quello che è la reale spiritualità la spiritualità nel concetto gnostico è una spiritualità individuale una spiritualità che non ha bisogno né di templi né di chiese né di raggruppamenti ma in realtà la figura del Dio ineffabile di Gesù la possiamo trovare in qualsiasi manifesto in qualsiasi interpretazione in qualsiasi manifestazione della natura addirittura nel Vangelo di Tommaso parla che alza una pietra e lì mi troverai insomma e questo cozzava in maniera pesante con la concezione da parte di Costantino in particolare in cui per motivi puramente politici aveva bisogno di una confezione religiosa che era già organizzata in forme politiche cosa che l'ognospicismo avrebbe in qualsiasi modo non avrebbe non sarebbe stata utile perché una religione che si basa sull'individualismo sarebbe stata ben difficile le persone poterle manipolare e quindi siamo caduti sulla confezione petrina confezione petrina in una forma di organizzazione che era particolarmente utile a parte da parte di Costantino considerate che Costantino non si è mai convertito quindi è sempre rimasto pagano c'è qualcosa che può legare Gesù per tornare al discorso di prima all'Egitto? ma sì diciamo che c'è un passo c'è un passo del profeta Osea in cui dice fuori dall'Egitto ho portato mio figlio c'è una dimostrazione veramente inscindibile del rapporto quasi simbiotico con l'Egitto nella chiesa copta ortodossa copta egiziana c'è una grossa tradizione per quanto riguarda il viaggio della Sacra Famiglia da noi viene affrontato in maniera abbastanza superficiale nella chiesa cattolica abbiamo dei passaggi sappiamo che lui è stato in Egitto sappiamo che ci sono stati i magi ma non sappiamo molto altro invece nella chiesa copta ortodossa egiziana abbiamo un viaggio addirittura in tutti i luoghi dove la Sacra Famiglia ha soggiornato quindi ci troviamo in una confessione che conosce in particolar modo tanti luoghi molto interessanti ma che arrivano fino quasi all'Uxor quindi lui ha girato quella Sacra Famiglia quando era inseguita diciamo dai Romani e dai Rode e se seguite anche le nostre trasmissioni ne parleremo della Sacra Famiglia e scoprirete che se fate un viaggio in Egitto c'è anche un viaggio organizzato che si chiama il viaggio della Sacra Famiglia che ci sono tanti tanti monasteri specialmente nel deserto bianco nel Fayun al Cairo nel quartiere Copto c'è addirittura l'albero di Maria l'albero della fonte dove si è abbeverata quindi c'è un viaggio particolarmente importante Gesù centra molto tutto perché si sono stati scritti tanti testi tra cui un libro di Shure che chiama Gesù l'ultimo grande iniziato un grande scopritore della confizione cristiana parlando di Akhenaton Akhenaton centra con il nostro Cristo perché la sua eresia la sua visione il suo grande sogno è stato quello di adorare una forma monoteistica di culto la prima volta nella storia in cui si manifesta una confessione una teologia talmente sofisticata e poi talmente astratta che probabilmente le tre religioni avramitiche riescono a concepire quindi una religione che non aveva né forma né volto quindi un dio trascendente un po' il dio del pleroma quindi era il disco solare in questo caso e da Akhenaton andando avanti abbiamo poi scoperto che il culto di Akhenaton è stato ripristinato il culto di Amon ma in realtà il culto egiziano non è stato più lo stesso ci sono state tante contaminazioni per arrivare poi al discorso di Mosè personaggio biblico personaggio non storico ma biblico in cui si pensa che addirittura alcuni scrittori tra cui anche un nostro libro di Ahmed Hosman Mosè Akhenaton lo scrittore afferma che Mosè e Akhenaton erano la stessa persona il grande filosofo il grande psichiatra Sigmund Freud un altro libro che noi abbiamo pubblicato che è Mosè e il monoteismo afferma che probabilmente Mosè era un personaggio molto vicino alla corte di Akhenaton e quindi praticamente ha dimostrato tramite una sequenza di passaggi filologici e esegetici che praticamente la più grande invocazione ebraica in realtà non fa adorare Yahweh che non è pronunciabile ma viene pronunciato con Adonai nella forma egiziana di Aton il famoso dio di Akhenaton quindi ce n'è da chiacchierare in questo caso in questo senso tutte cose che non vengono mai e poi mai portate alla luce ma in realtà ci fanno capire in realtà che sempre di più bisogna ascoltare tutte le campane tutte le campane e utilizzare un senso critico per farsi un'idea personale questo io ritengo che sia molto importante non possiamo fermarsi sempre alla alla prima immagine in realtà bisogna andare avanti bisogna essere curiosi bisogna essere persone in cui il dubbio è la cosa principale un dubbio un dubbio sano perché senza dubbio non ci sarebbero state le grandi scoperte scientifiche non ci sarebbe stato un avanzamento del pensiero quindi io dico sempre a tutti usate il dubbio usate la vostra intelligenza pensate riflettete e vedrete che sicuramente dentro di voi questo seme questa scintilla divina che è il pensiero agnostico che è sempre di più importante in questo in questo periodo addirittura un nostro autore Ezio Albrile afferma in un libro che l'agnosticismo è una religione per il futuro perché sono i tempi proprio i tempi per l'ognostico quindi dobbiamo combattere il mondo materiale il mondo del demiurgo il mondo degli arconti il mondo dei poteri occulti solo e esclusivamente con la scintilla divina che ci è stata impressa nonostante tutto dal Dio ineffabile perché il Dio che dice Biglino è famoso il demiurgo il famoso demiurgo che c'è ora il Dio che ne parla Biglino Biglino ne parla molto bene nei suoi libri ed è un Dio inferiore un Dio che ha creato questo mondo materiale in cui la gente e il mondo si alimenta questi arconti queste figure demoniache che si alimentano con la paura periodo proprio perfetto dove qualsiasi cosa che ci viene propinata è per far alimentare la paura perché la paura purtroppo blocca la paura praticamente ti fa perdere completamente quello che è il controllo e soprattutto il dubbio quindi bisogna in qualche modo lottare contro questa paura c'è un libro bellissimo però mi ricordo l'autore si chiama Tu per tu con la paura solo affrontando la paura ma non facendosi non facendosi sovrastare da essa possiamo in qualche modo cavalcare la nostra la nostra energia quindi la nostra energia non può essere contaminata quindi lavorando su se stesso lavorando sulla scintilla divina lavorando sul dubbio soprattutto riscoprire i valori che sono quelli degli antichi una sana e perfetta come si dice conoscenza di se stessi vedrete che sicuramente ci sarà e sarà più difficile per queste persone impossessarsi di noi mi fa piacere per concludere che siccome anni fa un'ascoltatrice mi inviò una paccata di libri di Samael Aoun Wehr e vedo che lo avete anche voi nel catalogo e ho alcuni qui davanti e la cosa mi fa molto piacere perché fu per me una bella scoperta proprio per avvicinarmi a questo mondo di agnosticismo che non avevo mai approfondito e confermo insomma la validità di questo pensiero e volevo volevo far capire far capire una cosa importante non so se avete mai visto questo serpente che si morde la coda lo Euroboros e per far capire il concetto antico del tempo noi abbiamo un tempo ora lineare i nostri amici appunti ci fanno un tempo lineare dove un inizio c'è una fine per gli egiziani per la mentalità gnostica non c'è un inizio e una fine c'è una morte e una rinascita c'è un bianco e un nero c'è una luce e un'ombra quindi un tempo che è ciclico in questo caso quindi è molto pericoloso per le persone che ci possono manovrare perché noi possiamo anche morire ma sicuramente rinasceremo in un'altra forma in un altro modo capito? questo è molto importante un concetto che ho scoperto prima quando ci siamo conosciuti Fabio tanto tempo fa mi sembra intorno al 2008 ora non mi ricordo ma insomma in periodi non sospetti no? però ecco devo dire che abbinato con il lavoro che è stato fatto mi rende non invincibile perché non c'è niente da essere invincibile però mi rende preparato soprattutto alle cose che si sono successe io ho affrontato il covid poco tempo fa qualche giorno fa devo dire che è stata un'esperienza negativa perché comunque per poco che sia comunque anche avere un raffreddore e un po' di febbre rompe le scatole naturalmente per ferragosto però ecco devo dire che sei pronto agli strumenti per non farsi sovrastare quindi tutte le attività tutte le cose che noi facciamo in qualche modo sono importanti soprattutto non piange e ci si addosso questa è una cosa che ho imparato perché ho avuto anche io di dire di Arezzo si dice dei casini no? quindi ho imparato soprattutto a non piangersi addosso soprattutto in qualche modo il mondo andrà avanti poi ci sarà un inizio e una fine se consideriamo il tempo circolare vedrai questi signori pian piano gli passerà la voglia ci sarà sempre un resoconto perché ricordateci dopo il buio c'è la luce e poi ecco al posto del piangersi addosso lo sforzo creativo può essere qualcosa no? ti capita un fatto che tu interpreti come negativo se tu parallelamente a questo invece che lamentarti comunque riesci a creare qualcosa di nuovo e di diverso che magari non avresti creato senza quell'evento forse è la miglior risposta ma alcuni chiamano resilienza io non vorrei chiamare la resilienza perché è un concetto abbastanza draghiano eh? draghiano di vacchi io parlerei il buio nero dell'anima c'è un uno uno scrittore molto molto bravo che è Greg Braden non so se lo conosci Fabio certo la matriz divina la ma ha scritto la matriz divina Greg Braden ha fatto ha fatto un testo che si chiama i specchi e seni i specchi e seni questa comunità di cui pare che anche Gesù facesse parte essene o na essen hanno sviluppato i sette specchi no? i sette specchi che sono praticamente lo specchio di noi di come ci vedono gli altri e c'è il non mi ricordo il sesto specchio quello specchio il buio nero dell'anima il buio nero dell'anima è noi siamo nel periodo peggiore e siamo nel momento in cui non abbiamo nessuna speranza no? però dentro di noi come ho detto prima abbiamo una scintilla degli strumenti dei mezzi per poter risalire quindi per ritornare in alto importante ne parla il pimandro ne parla se uno conosce metetris megisto è quello che si chiama una trasmutazione alchemica no? quindi un passaggio da da quello che è la la materia la materia sporca diciamo il piombo lavorando su se stessi possiamo andare verso l'oro quindi verso il sole quindi ascendere dal nero e andare verso il cielo questo è un lavoro molto importante questo lavoro alchemico no? questo lavoro alchemico su se stesso quindi anche l'Egitto che è il fondatore insieme agli arabi dell'alchimia quindi della parola alchemia alchemet che praticamente è la parola che significa terra nera e significa praticamente la la piena del Nilo quindi il limo maleodorante no? puzzolente che rilascia quando il Nilo rientra nel suo finisce la diciamo l'esondazione ora non più con la diega di Aswan praticamente da quella sostanza maleodorante con il lavoro dell'uomo con la trasformazione venivano prodotte le messi quindi è un concetto perfetto di quanto concerne trasformazione alchemica quindi arrivando alla pietra filosofale in questo caso le messi ma su di noi arrivando a quello che è l'ascensione massima volevo fare una una cosa molto interessante se avete voglia e tempo di andare a Siena voi avrete la manifestazione più lampante in un tempio cristiano delle forme di paganesimo e di ermetismo al buono di Siena al pavimento di Siena alla prima tarsia abbiamo ermete trismegisto che dona ai libri sacri le leggi agli egiziani non so se avete mai visto te Fabio a Siena insomma no non mi è non mi è capitato pur avendola molto frequentata allora io ricordo il sito intanto di armachis edizioni e a questo punto noi possiamo già dare l'appuntamento a giovedì della prossima settimana o andiamo la prossima settimana vedremo se farò ancora una trasmissione io su un argomento che conosco bene oppure riusciamo a fare in tempo a registrare con un nostro autore probabilmente Matteo Gazzolo che parlerà di esperienze premorte molto conosciuto il figlio di Nando Gazzolo che ha scritto un bellissimo libro bene allora sarebbe davvero un ottimo inizio per partire io ringrazio molto Leonardo Lovari e lo troverete dunque da giovedì della prossima settimana quindi andiamo a giovedì 15 settembre per questa nuova avventura che è proprio un titolo insomma tutto quello che serve per partire Leonardo grazie davvero per essere con noi grazie grazie a voi ho visto un'altra volta che mi che mi chiedono della pugnal che mette le mani con sette come farone ma io non so come la metto sicuramente userà un segno esoterico comunque le mani al petto non è mai un gran segno perché è un segno di chiusura insomma comunque dai ne parleremo anche di questo parleremo anche delle braccia incrociate con con dei faroni grazie a tutti buona serata grazie buona serata grazie